Amoroso contro Molitierno in corsa molto lunga parte Amoroso bentornato in segnare all'Arsignano la sblocca un bomber vero la zona da pivo grande giocata di Barone Mette Lignanes tocca corto e male c'ho lo Salas fa filtare per Peric Ora Napoli con l'uscita di Urbani e poi Mancia la palla sulla traversa e c'ho lo Salas Recupero di Duarte Cesaroni ci riprova col sinistro stavolta è buonissima Arte Duarte che calza piano ma cala la manita